Sono cominciati da qualche giorno gli interventi per la riqualificazione del lungomare di San Girolamo Fesca a Bari. Si tratta di un'opera imponente, dal costo complessivo di quasi 16 milioni di euro, che interesserà un chilometro e 700 metri di litorale. I lavori sono cominciati nell'area nord della costa interessata dal cantiere, nei pressi del Lido Massimo. Per me è difficile nascondere l'emozione, ha dichiarato il sindaco Antonio De Caro, che ha voluto presenziare l'avvio dei lavori. Mi riempie di gioia vedere le espressioni dei residenti che attendono da oltre 30 anni la realizzazione del waterfront. Sarà la prima vera spiaggia di Bari con un parco a mare, una zona completamente pedonalizzata e una pista ciclabile, annuncia il sindaco chiedendo a tutti di avere pazienza per i disagi che i lavori potrebbero provocare.